Ora che sai chi è il mediatore creditizio, vediamo che cosa può e non può fare. La cosa più importante da sapere è che il mediatore creditizio può aiutarti nelle fasi che precedono la stipola di un contratto di finanziamento, ma gli è vietato concluderlo direttamente, così come non può incassare denaro in contanti o con altri mezzi di pagamento per conto di una banca. Quello che invece rientra tra i suoi compiti è darti consulenza di qualità per consentirti di scegliere, tra i prodotti o servizi offerti dalle banche, quello più in linea con le tue esigenze. Puoi inoltre svolgere una prima istruttoria per conto della banca e inoltrarle alla tua richiesta.